Salve a tutti ragazzi, sono PepeJGamers e siamo in un nuovo video come vi avevo promesso ho portato sul mio canale Butterfeed4 e come ospite abbiamo iFrance e ragazzi, non so se voi sentite iFrance però lo dovrete sentire dobbiamo giocare una bella mappa credo dai 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 ah ecco qui e noi siamo caricati dobbiamo aspettare un pochettino ok ok, sono pronto io ok, vediamo il server si sta riempendo ok, va bene così ok, possiamo schierarci benissimo eh strano tu dove sei ti vuoi l'individuare via si parte, si parte, si parte all'attacco il calonatemi o no? no, bene stai qui, sei guarda su di me guarda, ecco come vedete a destra e in basso vedete io sono guidatore guarda che sto sparando guarda, questa è la conquista ragazzi dobbiamo conquistare i palestini della mappa faccio ragazzi guarda scusate ragazzi perché ci siamo questo, ma non la f***a che mi piace guarda che è un po' guarda che è un po' guarda che è un po' molto bello di più guarda che è un po' inoltre fornito il piatto prendo il piatto io vi ho molto bello per il piatto Oh, che cosa? Questo è un fatto che ero uno di questi rivali Che si sfruggeva tutto, mi ricordo Si stanno filando, vai Dove? Mi pareva dove avvenisse E' deciso, no, è morto No Scorro, che chi non li metto Adesso mi rispondo, andate Ecco Vai, lanciviamo la bandiera Sì, sì L'obiettivo Charlie è appena stato neutralizzato Ho trovato Ho localizzato il veicolo con l'attacco del terreno Allora, ho messo il testo a te Attento Stavo scodendo il video là Abbiamo il controllo dell'obiettivo Ness Ok, di sotto, penso Allora, ci sono nemici nei baraggi Oh, cavolo, ho passato un pochino Dove ne ho messo i dei baraggi Oh, aspetta, guarda quello che faccio Guarda quello che faccio Questo si riesce a sparare corda Oh, raga, ho fatto della palla gigante Come una figata Guarda quello Oh, vabbè Oh, vabbè Oh, vabbè Eh, io devo riportare l'obiettivo Perché prima o poi dovrebbe cadere Oh, quel cecchino di merda Ci sta un cecchino Oh, aspetta Oh, non morire Non morire, franzo Che adesso metto scout Oh, non morire Il mio veicolo è danneggiato Mi serve un meccanico Oh, che tanto No, vabbè Si sta comunque distante il nostro L'obiettivo Charlie è andato perso Abbiamo il controllo dell'obiettivo Echo No Questi cecchini di merda No, lì sopporto Te lo giuro Oh, non morire No, non morire l'attenzione è qui ok non fa niente eh io sono morta la forza spalla di prima spalla di prima spalla di prima spalla di prima dove vai a vedere l'attenzione ma dov'era Oh, da là fuori ragazzi, da là fuori, da là fuori Ma sto figlio di zocca Non si porta più Non cade da qua Ragazzi, non è proprio beccato se si distrugge tutto Ragazzi, non è proprio beccato Ah, mamma mia, non è Cosa è successo? Ho localizzato un cecchino nemico, si trova a ovesta della tua posizione No, è tanto Oh, come si è da là? Non so non ce l'avevo io Ma di fronte No, ok Non cade la palla No, mamma mia, non ho connesso il punto Ok, sono insieme il punto delta Oh, non cadere, non cadere Ok, via, via, via Via, salta, va, va Vabbè, è stato niente È stato conquistato C'è un veicolo nemico a est della tua posizione Guardi, vedi un nemico Ah Tu Ti sputta Somewhere Abbiamo appena neutralizzato l'obiettivo Charlie Ti riparo tutto Ma quella è giusto Sì, ti riparo A est di dove ti trovi? Vedo un cecchino nemico A est, a est di dove Dove sei cecchino? Ciao Vai Attenzione, l'obiettivo Charlie è in mano nostra Eh, tante attenzioni che non è Deve se ci vedete Che noi ci andiamo Ha avuto una grandissima idea Ah, non ci andiamo Andiamo qui Oh, che scherzo A est, a est, a est Oh, che scherzo No L'abbiamo perso Non ti stimo Charlie Siamo Dai Vai 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 Sì Ok, fondo delta. Ok, fondo delta. Abbiamo il controllo dell'obiettivo Charlie. Andiamo. E' un po' di più! E' un po' di più! E' un po' di più! C'è un po' di più! Tu ti parla! Rai, vai, vai! Di un po' di più! Tu... non so sono contando la palla vede se si distruggia oh guarda guarda si trova a essere in spesso a te come stanno venendo in un altro punto bravo è morto stai sento morto non è morto oh no l'obiettivo Charlie no torretto non sono torretto no sono perdendo sono perdendo il punto delta il punto ego e il punto arpa se lo abbiamo noi abbiamo il controllo dell'obiettivo delta ok abbiamo il controllo dell'obiettivo delta vedo un veicolo nemico poco più a est di te il controllo dell'obiettivo è morto è morto è morto è morto è morto è morto vedo un pochino nemico si trova a essere rispetto a te non controlliamo più alfa è morto è morto è morto è morto è morto la palla non è ancora questa è morto è morto ho localizzato un soldato nemico a sud della tua posizione è morto è stato neutralizzato ok abbiamo un super peccato ok ragazzi allora abbiamo anche spericato il bot e oggi benissimo ho sperato un robot che secondo me ci seguirà anche se si vedeva di voi che vi voglio fare un battito ragazzi per questo video dibattito a tutti e non è che voi non sentite la voce di iFrance o non lo so dire comunque il video è finito vi saluta anche iFrance ciao ciao